E Pina Ballore, il nuovo assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Sassari, è stata nominata nel pomeriggio di ieri dal sindaco Nicola Sanna, che tiene per sé la delega alla partecipazione democratica. Classe 1964 sassarese, Pina Ballore è impegnata da anni nel sociale, presidente dal 2014 della Commissione di Isabilità del Comune e anche presidente dell'AIMA Sassari, sezione locale dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer, è componente del Consiglio Direttivo Nazionale e fa parte inoltre di Tramas, la rete dei cittadini, progetto dell'assessorato regionale della sanità. Ballore subentra Monica Spanedda, una delle sostenitrici della prima ora di Sanna, nonché fautrice della vittoria alle amministrative di quattro anni fa, che si è dimessa però in aperta polemica col sindaco, accusato alla stessa di mancanza di collegialità e vera condivisione delle decisioni. A fine luglio il sindaco aveva dovuto fare un mini rimpasto in giunta nominando due nuovi assessori, alla cultura Manuela Palita in quota OPC e all'innovazione Rossana Tomasina Serratrice per il PD. Prima di accettare l'incarico, l'assessore Ballore si è dimessa dalla presidenza della Commissione Disabilità.